Quali sono le correnti più importanti del design italiano? Dubite. Il design italiano vanta diverse correnti e movimenti significativi che hanno influenzato il panorama internazionale. Alcuni dei più importanti includono il design razionalista, caratterizzato dalla funzionalità e dalla semplicità delle forme, promosso da figure come Gioponti e Achille Castiglioni. Il movimento Memphis, fondato da Ettore Sozzas, ha introdotto colore di baci, forme eccentriche e un approccio non convenzionale al design negli anni Ottanta. Il neomodernismo italiano, che fonde tradizioni e innovazione, è rappresentato da designer come Patricia Urquiola e Antonio Cittegno. Inoltre, il design sostenibile e l'ecodesign stanno guadagnando sempre più importanza, con l'accento sul riciclo, la riduzione degli sprechi e la creazione di prodotti eco-friendly. Queste correnti riflettono la diversità e la creatività del design italiano, che continua a espiare e influenzare il mondo del design contemporaneo. Se hai bisogno di ulteriori dettagli su una specifica corrente o desideri esplorare altri movimenti del design italiano, sono qui per aiutarti.